Prenota la tua vacanza in Calabria, nel cuore del Mediterraneo, a Capo Vaticano e Tropea. Vivi un'esperienza indimenticabile, dove i colori sono più vivi. Il verde è più verde, il rosso è più rosso e il blu è più blu. Circa ora la tua vacanza su lacostabella.it Vieni in sicurezza a Tropea e Capo Vaticano. Ti aspettiamo! Grazie a tutti!